Ciao, in questo video parliamo di un premix molto molto diffuso nel mondo della miscelazione che è lo sweet and sour e vi devo dire la verità ne ho scritto anche un articolo che vi lascio qua sopra su questo ingrediente c'è molta confusione quindi ho deciso di andare a realizzarne un video appunto per spiegarvi tutto quello che c'è da sapere su questo premix e anche sulla sua preparazione ma soprattutto sul suo utilizzo nei cocktail prima di cominciare mi presento sono Giovanni Ceccarelli ho un blog sulla miscelazione www.giovanniceccarelli.com e sono un formatore in Dream Factory Dream Factory è una scuola per barman con sede a Bologna è una delle più conosciute e apprezzate d'Italia e mi trovo in questo momento nel nostro laboratorio in una vita precedente mentre ho iniziato a lavorare come bartender per pagare gli studi mi sono anche laureato in ingegneria e da qui il mio brand il mio payoff cocktail engineering finita la presentazione soprattutto anche per non annoiare chi mi dovesse già conoscere e invece chi non mi conosce può andare anche a leggersi un po' più cose sul mio blog li trovate insomma un po' più cose su di me anche leggendo i miei articoli o guardando altri video insomma capirete meglio qual è la mia filosofia e il mio modo di lavorare quindi iniziamo a parlare di Sweet and Sour e soprattutto cerchiamo di capire che cos'è lo Sweet and Sour lo Sweet and Sour è un premix un premix che cos'è? un premix è l'insieme di diversi uno o più ingredienti di alcuni drink che vengono preparati per andare ad accelerare il servizio e a standardizzare la preparazione accelerare e standardizzare sono due concetti molto molto importanti per quale motivo? perché immaginate di lavorare in un contesto lavorativo ad alto volume quindi dove dovete servire molti drink nel minor tempo possibile senza sacrificare chiaramente la qualità andare a premiscelare alcuni ingredienti è sicuramente una cosa molto importante perché in questo modo riuscite a mettere fuori voi e i vostri colleghi dei drink tutti uguali fatti in poco tempo e quindi è una cosa molto molto importante una cosa che in tanti contesti in cui ho lavorato mi ha oggettivamente salvato da serate che potevano finire insomma male chiaramente quando si crea tanta fila bisogna smaltire il più velocemente possibile però la standardizzazione può andare ad avere anche degli aspetti negativi perché se per esempio un cliente volesse quel drink magari un po' più dolce magari un pochino più acido quindi leggermente diverso da come lo preparate nell'equilibrio e nel bilanciamento voi potete farci poco perché in quel caso avete già gli ingredienti premiscelati quindi in quel caso dovreste magari averli già separati questo concetto il concetto di premix è poi stato esteso e adesso oggigiorno si parla molto anche di prebatch dove per prebatch si vanno a premiscelare i drink già finiti con o senza la diluizione io solitamente li vado a premiscelare senza la diluizione perché la diluizione la lascio con la tecnica e questo si rende necessario perché molte tecniche che si applicano oggi richiedono magari molto tempo quindi pensate anche a un milk washing come tecnica è una tecnica di chiarificazione che sfrutta la cagliatura del latte è una tecnica che richiede anche diverse ore quindi non possiamo pensare di farlo al momento dobbiamo preparare il drink prima e poi andarlo a servire praticamente già pronto andando poi a shakerare eccetera quindi dobbiamo avere un prebatch degli ingredienti quindi fondamentalmente il concetto di prebatch è avere il drink già finito di premis alcuni degli ingredienti di quel drink però il concetto alla base non cambia standardizzare ed accelerare il processo lo sweet and sour è l'unione fondamentalmente di succo di limone o anche eventualmente lime e zucchero solitamente nella forma di sciroppo di zucchero ok quindi vi lascio il video che potete andare a vedere su che cosa sia lo sciroppo di zucchero mettiamo un punto di domanda e ci mettiamo albume ok e sul discorso albume arriveremo a parlare tra un po' ok adesso ci concentriamo prima sul discorso succo di limone e sciroppo di zucchero e mettiamo un altro punto di domanda scusate mi sono dimenticato anzi facciamo così mettiamo prima un punto di domanda con la parola acqua e poi mettiamo un altro punto di domanda con la parola albume come prima cosa prima di arrivare a parlare qua ci concentreremo sul discorso succo di limone e sciroppo di zucchero allora quanto succo di limone e quanto sciroppo di zucchero nello sweet and sour dipende non esiste la ricetta dello sweet and sour perché lo sweet and sour è un premix che deve essere fatto in base a quelli che sono i vostri drink nel quale lo volete andare a utilizzare se per esempio volete fare volete utilizzare lo sweet and sour farvi un vostro sweet and sour perché nel vostro drink nel vostro locale servite molti vodka sour whisky sour eccetera e io solitamente un vodka sour o un whisky sour senza entrare in dettagli troppo specifici sul tipo di distillato che si usa lo preparo con un equilibrio di 30 ml di limone e 20 ml di sciroppo di zucchero al 62% per andare a creare il mio sweet and sour in quantità più elevate per esempio se volessi fare un litro dovrei andare a utilizzare 600 ml di succo di limone e 400 ml di sciroppo di zucchero quindi questo sweet and sour sarebbe perfetto per esempio per andare a realizzare i miei vodka sour o i miei whisky sour ma se io dovessi andare a realizzare per esempio in quella serata degli amaretto sour quindi dei drink sour che si preparano al posto della vodka o del whisky con un liquore come il di saronno o altri quindi dei liquori abbastanza dolci o anche non so se c'è ancora qualcuno che lo chiede il midori sour eccetera probabilmente questa proporzione questa ricetta questo equilibrio dello sweet and sour non andrebbe più bene perché questo è uno sweet and sour tutto sommato che strizza l'occhio al dolce ok non è troppo dolce però diciamo che si sposta ok verso dare una punta di dolcezza un pochino superiore e quindi se dovessi fare per esempio un midori sour un amaretto sour probabilmente non seguirei questa proporzione ma qui per esempio andrei a portare ok a 15 ml o eventualmente anche meno a seconda del liquore la quantità di sciroppo di zucchero quindi dovrei rivedere questa proporzione quindi lo sweet and sour che per esempio creo per vodka sour e per whisky sour non andrebbe magari bene nel mio equilibrio gustativo per un di saronno sour ok quindi attenzione a dire che esiste la ricetta dello sweet and sour vi faccio per esempio un esempio il Long Island il Long Island è un drink che ha tantissimi ingredienti io non ho una grande stima di questo drink perché secondo me è un po' un mischione senza senso però detto questo fatto con criterio con intelligenza è sicuramente un drink gradevole da bere ok è un drink abbastanza dolciastro ok con la coca cola con il limone non c'è nessun distillato che spicca più degli altri a parte forse un pochino il tequila se lo andate a mettere cosa che chiaramente secondo me ha senso fare perché altrimenti veramente è una limonata con la coca cola non ha molto carattere però io per esempio nel mio Long Island nella mia versione io tendo a mettere 20 ml di limone 20 ml di limone e 10 ml di sciroppo di zucchero quindi lo faccio con un po' meno limone e sicuramente meno zucchero di quello che magari si può trovare in tante codifiche in tante ricette questo comporta che per esempio se io vado a farmi uno sweet and sour perché magari nel mio locale servo 200 Long Island da sera sicuramente farò un pre-batch della parte alcolica un pre-mix della parte alcolica ma anche uno sweet and sour dedicato e per esempio uno sweet and sour per il mio Long Island sarebbe 660 ml di succo di limone e 340 ml di sciroppo di zucchero dite vabbè ma è molto simile a quello di prima sì e no perché comunque qui aumenta e qua diminuisce quindi non è che sto solo diminuendo lo zucchero sto anche aumentando la parte acida quindi l'equilibrio è abbastanza diverso questo vuol dire che con lo sweet and sour di prima il Long Island non sarebbe venuto bene assolutamente no sarebbe stato leggermente più dolciastro ok quindi ancora una volta il discorso legato allo sweet and sour è questo va benissimo fare lo sweet and sour però attenzione a valutarne un equilibrio che possa funzionare per i drink per i quali lo avete pensato non tutti gli equilibri vanno bene per tutti i drink ok benissimo quindi capito il ragionamento adesso cancello le quantità se non pensate che esista la ricetta dello sweet and sour andiamo a ragionare su questi altri due ingredienti molto spesso nello sweet and sour vedete addizionare acqua quindi molti bartender anche in tanti blog libri anche magari un pochino più datati si legge che lo sweet and sour lo si prepara con succo di limone sciroppo di zucchero e acqua ok secondo me e questo è un grande no ok questo è un gravissimo errore ho fatto cadere il raccolgo un attimo il colore ok è un grande no perché è un grande no perché ragazzi l'acqua è la diluizione del mio drink e la diluizione viene data solitamente con la tecnica di preparazione del drink quindi shakerata stir o anche in parte con la tecnica build con se utilizziamo del ghiaccio a neve un milkshake mixer ok con qualunque tecnica che coinvolga ghiaccio voi andate a dare diluizione quindi perché andare ad aggiungere diluizione in un premix se poi comunque la diluizione è andata ad aggiungere dopo totalmente insensato non ha assolutamente alcun senso eh ma lo sweet and sour è più buono se ci metti l'acqua grazie al pizzero volevo dire grazie al cazzo ma suonava brutto alla fine l'ho detto lo stesso perché ragazzi è perché è una limonata cioè se voi ci mettete succo di limone zucchero e acqua state facendo una limonata e grazie che bevuta da solo sia più buono o diluito ma voi non dovete ragionare di bere lo sweet and sour da solo voi dovete ragionare dell'utilizzo che poi ne farete nel drink ok quindi se volete fare una limonata aggiungeteci acqua e bevetevi una limonata ma se volete fare lo sweet and sour che è un premix da usare in un drink che verrà successivamente diluito con una tecnica non ha senso metterci l'acqua quindi l'acqua ci lasciamo qui una bella X ci scriviamo pure no ok così siamo sicuri che vi rimanga in testa ora il discorso albume qui ragioniamoci un attimo prima di darvi quella che è la mia risposta l'albume è l'ingrediente schiumogeno per eccellenza nel mondo del bar adesso esistono molti sostituti da quelli come l'acqua faba a delle ultime cose che sono apparte sul mercato che sono degli estratti vegetali utilizzati a gocce fanno una bella schiuma però l'albume diciamo che è sempre quello per questioni e ragioni storiche ha sempre avuto un po' un'importanza maggiore è il più utilizzato in piccolissime quantità io ne vado a utilizzare 10 ml a me piace molto quello che dà una bella schiuma però devo riconoscere che molti di questi prodotti nuovi comunque danno degli ottimi risultati però secondo me andare a mettere l'albume direttamente nello sweet and sour è un errore perché è un errore innanzitutto da un punto di vista HCCP di sicurezza alimentare noi dobbiamo utilizzare dell'albume pastorizzato e su questo non ci piove è vero che questa preparazione ha un pH molto basso però è anche vero che ogni qualvolta magari andate a utilizzare per esempio delle uova diciamo che in caso di controlli è sempre un pochino delicata la cosa quindi preparare fare una preparazione con dell'albume andarla a stoccare magari diversi giorni in frigo nonostante i parametri di sicurezza ci fanno ben sperare potreste andare incontro a delle rotture di scatole e dover andare a giustificarvi con la AS nel caso appunto di un controllo oltre che chiaramente potrebbe anche essere lontanamente pericoloso ma utilizzando il pastorizzato e con il limone e la temperatura bassa del frigo di problemi non dovreste avere tanti io solitamente l'albume lo tengo a parte lo uso a parte anche perché magari lo sweet and sour lo utilizzo in dei drink in cui non per forza ci va l'albume come per esempio nel Long Island diciamo che lo si è iniziato a mettere perché in passato a un certo punto ecco le campane classiche di questo orario qui la chiesa suona di continuo perché si è iniziato ad utilizzare l'albume lo sweet and sour liofilizzato quindi delle bustine che reidratate vanno a crearvi lo sweet and sour inutile dire che il loro gusto è abbastanza terrificante però all'interno di queste bustine è presente un po' di proteine dell'albume che è appunto l'albumina non confondete l'albume con l'albumina l'albumina è una delle proteine contenute qua dentro che va appunto a creare questa schiuma quindi questi Long Island ma anche questi sour con questa schiuma sono anche in alcuni casi di sour non del Long Island più gradevoli assolutamente da bere io sconsiglio di andare a mettere l'albume per il discorso HCCP che vi facevo ma anche perché mi piace andare a gestire eventualmente le richieste dei clienti ok standardizzare ma magari c'è qualcuno che non lo può gradire magari perché semplicemente gli fa schifo l'idea anche se è totalmente insapore oppure magari perché può avere dei problemi di allergie per esempio ok quindi io cercarei di tenerlo fuori e me lo terrei a parte magari in uno squeezer da utilizzare al momento quindi per quanto mi riguarda ha più senso creare uno sweet and sour ok solo con limone e zucchero quindi acqua no albume fate voi ma secondo me è anche questo caso un no ok quindi prepariamo uno sweet and sour prendete una caraffa graduata qui ho 300 millilitri di succo di limone fresco voglio preparare uno sweet and sour perfetto per fare magari un whiskey sour o un vodka sour per quello che può essere il mio bilanciamento quindi in questo caso ne andrò a fare mezzo litro per farne mezzo litro vorrò bisogno di 300 ml di succo di limone fresco chiaramente filtrato con un colino e 200 ml di sciroppo di zucchero al 62% quindi li miscelo li vado bene bene ad amalgamare è molto gradevole chiaramente non da bersi così ma sicuramente nel drink darà un buon risultato e poi ce lo andiamo a travasare in una bottiglia che andremo a etichettare come abbiamo deciso nel nostro manuale di autocontrollo HCCP e l'andiamo a stoccare in frigo quando la bottiglia magari tende un pochino a svuotare se potete usare il metal purer e quello che credete potete anche magari andare se dovete stoccarlo conservarlo per il giorno dopo quello che rimane togliete il metal purer e magari con un vacuum wine saver quindi i tappi quelli per pompare via l'aria dei vini potete andare a rimuovere l'aria rimasta e un paio di giorni insomma può essere può essere stoccato poi chiaramente a livello igienico sanitario questo non ha grossi problemi a stare anche di più però magari a livello gustativo tende un pochino a perdere e a peggiorare quindi comunque assaggiatelo per valutare lo stato di conservazione e il suo gusto chiaramente gustativo e non igienico sanitario per le questioni igienico sanitarie si valutano dei parametri oggettivi come pH temperatura e altri bene ragazzi io credo di aver detto tutto sullo sweet and sour se mi sono dimenticato qualcosa magari andatevi a leggere l'articolo che trovate in descrizione che vi ho fatto anche apparire prima lì ho scritto un bellissimo articolo sullo sweet and sour andatevelo a leggere trovate riscritte queste cose magari c'è anche qualcos'altro non credo però nel caso andateci a vedere iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e iscrivetevi a cocktail engineering pro l'area riservata sul mio blog ve la faccio apparire che vi darà anche l'accesso alla mia community su facebook al mio gruppo facebook nel quale in questo momento ci sono poco più di 4500 bartender professionisti iscritti rispondete alle domande e iscrivetevi vi aspetto e ci vediamo alla prossima ciao ciao